Se interessato allo scrapbooking, al cucito creativo, alle manifatture con porcellana fredda o paste polimeriche, a creare bigioteria, bomboniere, cup top, stampini modellati, album, portafoto, fiocchi di neve ed oggettistica varia per la tua casa, e poi silhouette cameo e tecniche di scrittura laminata. Vuoi imparare a fare tutto questo seguendo dei semplici tutorial? Allora, Le Perle di Vale, è il canale YouTube che fa per te. Non aspettare, visita la pagina Le Perle di Vale. E anche tu scoprirai come utilizzare il tuo ingegno, Le Perle di Vale. Il canale YouTube che libera la tua fantasia creativa.